Ciao a tutti! Ciao a tutti! Oggi è benvenuti in un nuovo video! Oggi questa è una stupenda, fantastica, con bel angoli al paddock che adesso è sul lato pulito perché se si gira è il lato sporco. E' pezzato, lo vedete anche nei fiori. Infatti, oh mio Dio! Oh mio Dio, è marrone! Non ci credo! No, si diventa sempre la stessa parte che c'era l'altezza! Lei baglierà pure, vai! Oddio, oddio! Grazie! Vai, vai! Vai, è il torera! È il torera! La nostra cica! Ma ci sta tiro o ci sta vallo, eh? Va! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti